8 dicembre 1929, nasce a Vicenza Goffredo Parise, scrittore e giornalista. È autore di vivacissimi reportage di viaggio come Cara Cina, 1966, e Due e tre cose sul Vietnam, 1967. Nel 1982 si aggiudica il premio Strega con Sillabario numero 2, un'originale collezione di racconti brevi dedicati ai sentimenti. Muore il 31 agosto 1986.